Noia, più noia che cattiva educazione, perché non penso che un genitore, un figlio o chiunque sia abbia una brutta educazione, però noia, ce n'è tanta in questi ragazzi oggigiorno. E lì, alla portata dei frequentatori della piazzetta, con il suo contenuto di libricini per i più piccoli, è aperta e a disposizione di tutti, forse anche troppo. Una casetta di legno con un tettuccio verde ed uno sportello in plexiglass dall'aspetto quasi fiabesco sembra essere uscita proprio da uno di quei libricini che porta al suo interno. Una via di mezzo tra un nido per gli uccellini e una casetta dei giochi, in un luogo che nel pomeriggio diventa animato, pieno di giochi, di voci, di bambini, ma che di sera cambia volto, ahimè, e le sue frequentazioni diventano meno fiabesche. E la casetta porta libri è il parafulmine della loro idiozia. I ragazzini vengono, prendono i libri, li leggono e via. Poi c'è sempre quello vandalo che si diverte. Infatti la sera di Halloween, io e una signora qua, sono tutti i corroni, che buttavano i propri petardi dentro per bruciare i libri. Voi che abitate qui, insomma, ci tenete a queste cose che insomma... Ci teniamo sì, siamo di Sant'Orso, ci piace che Sant'Orso sia ben tenuto, ben visto un po' da tutti, no? Nel quartiere dell'immondizio oppure del degrado, scoccia vedere queste cose, onestamente scoccia. Ma stamattina di buon'ora la casetta della lettura era già lì, al suo posto, eretta e fiera di essere lì per la gioia dei più piccoli e degli abitanti del quartiere. rimessa in forma, per la seconda volta, da un papà dei tanti bambini che frequentano la scuola vicino. Penso che sia una cosa che aspetti a tutti, chiunque veda un minimo di degrado nel proprio quartiere, fare qualcosa, in qualche modo, per dimostrare che esiste un po' di coscienza, che esistono, oltre a chi fa degli attivandaggi, delle persone che hanno anche a cuore le cose in cui vivono. Sono dieci minuti e così, ma l'ho fatto in tutta tranquillità, mi sembrava una cosa dovuta, cioè tutto qui. Però la cosa che tu vuoi rimarcare, che comunque sotto i tuoi occhi l'hai vissuta, è un po' questa indifferenza. Allora, la cosa che mi ha dato molto fastidio è che, essendo una scuola molto frequentata, vedere tanta gente che passava e che ignorava totalmente la cosa, mi ha dato molto forza, mi ha dato più fastidio, mi ha dato più fastidio l'ignoranza che l'atto vandalico.